Il Consiglio Comunale è convocato per mercoledì 1 febbraio alle ore 18 per un consiglio monotematico per la discussione ed organizzazione degli eventi natalizi appena trascorsi. Dopo la conferenza dei capigruppo del 26 gennaio che con determinazione ha chiesto questo consiglio, il Presidente del Consiglio Giovanni Magri ha convocato dunque questo consiglio straordinario. Il giovedì scorso ho convocato una capigruppo proprio per calendarizzare questo consiglio, per i non addetti ai lavori ricordo che il Presidente del Consiglio deve convocare entro 20 giorni dalla richiesta di consiglio, in questo caso appunto è arrivata una richiesta di consiglio comunale da parte di diversi consiglieri comunali che appunto come diciamo ordine del giorno, come consiglio monotematico, chiedevano un consiglio comunale per discutere delle attività messe in atto da parte dell'amministrazione comunale nel periodo natalizio, nell'ultimo periodo delle festività natalizie. e dunque giovedì scorso con questa conferenza dei capigruppo abbiamo definito, abbiamo determinato anche la calendarizzazione e quindi questo consiglio comunale.